Benvenuti in casa Oscar Di Maio A casa mia sta sempre a confusione Benvenuti E non fa niente, si passa tanta guai Benvenuti Ma chi è? Ma chi è? Non è un guai su assai E non è venuta a accalmarla senza offesa agli animali E perché si chiama così? È molto d'unico Oggi l'ha già risorto, oggi sapete che giorno è? Giorno di morte, è un dovere così, deve pensare 2 novembre, sta pensando di morte E qua viene la spiegazione logica Perché il siano come amica non ci è detto a tiembra Ma rimanette senza un asilo Ma voi lo sapete che questo è un fatto veramente comico E' come che c'è cammino senza un asilo Diciteci il luogo al signor Di Maio Che non mi porti i soldi A me a me mi mette una percoco a mucca Veramente a cice E chiama mamma invece era una parola Viene un signore, io volessi scoraggiare Io voglio tanto venire Non mi guardate, non mi guardate Per poni male, vieni a uccidere Dammi un consiglio Allora stanno assenti a me Tu lo sai? Richi no, tu sei tanto brava Sai fa che le sceglie Questa è la parola chiave Tenga figlia Per favore Non mangiare Guarda stasì, salvasì 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 Fammi sentire tu come mangiare Non mangiare Non mangiare Io sono patetì Non mangiare Tu giuro fa' omusirla E come fa' Ci ha scettato Fammi vedere come fa' Aitemi così Tu sei peppato Non mangiare Non mangiare Per favore Mucidofana Mucidofana Manda sconga sotto la tavata Chi è? Lo sapeva Addo sta? Addo sta Alessa Non lo sai Non lo sai Sape proprio Io vorrei supericere voi Addo sta? Ma Ma Faccio paura Ma che vuoi mettiti ha paura che me lo mangi? Uuuuuh Guardate cazzo me lo mangiare Ma che vuol tu? Addo Posso essere accisi Non c'è te sia una febbre E' un altro uomo E non tu? E tu hai che devi La prima voglia fritta Veramente Qua teniamo La spada ti dà La spada No ma chi è la dama? E' questa di chi? Fatemi ha fatto i sacrifici per mi fai studiare La spada ti dà La tuscia mia Tu non hai idea Quello che stiamo passando in da saccare Tu non ce la faccio giù Non ce la faccio più Tu non ce la fai Si quando la asano I suoi Che fai bene o anche male E ci sono No te la faccio junge Vesce l'uoccafé E mi piglia una verità Voi le fa portare Ma che? Si se mania mamma Cance Sto scherzando amore Mi fai Sto scherzando amore Sto scherzando amore Ma 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 che a un certo punto Dato Puglio pure l'uoccuraggio Rammamama Bravo Cuda Pronta? Vieni, 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 vieni. Avvisate un signor Di Maio che ci fate mettere una bomba rinca... A provarmi? Facete mazzetta? Prosto? Sì, ha detto che stanno a bombare una scusa cattiva... Pangeva! Ma chi è quello del mondo di qua? Eh, quello è Michelangelo! Quello è buonarrosto! Distrazione, che distrazione... Intanto io e papà non l'hanno fatto per me, ne avrei venito, l'ho fatto per voi. Lui è ad aiutarti. Infatti voglio darti questa cosa che mi ha regalato per questi pisti, mi chiamiamo. Grazie. Dai, prenditela. Poi quando mi faccio grande... Dobbiamo dirla a Raffo. Questo sono i soldi della bolletta della luce. Quando buono buono, appicciamo il cannello. Ma perché stai giuendo? Preto! Come si può fare? Che mi fa venire a voi? Papà... C'era a fare il telefono. Laffo, che è papà? Papà! Papà, andate a stac... Pitiatele, non ti preoccupare, non ti preoccupare, nessuno ti fa niente, papà, non ti preoccupare. Però ci stanno pure i soldi di carta che raccattano il buon bolletto. Però purtroppo, quello che mi avete dato è troppo poco per risolvere i problemi. Sì, papà. Sì. Quando ci sono i soldi, questa c'è la Raffa. Se non altri, per gli altri servizi a mamma. No, non gli ho perso, non gli ho perso. Tutto quanto a papà. Piti a mamma, dei creatori. Gliatevi in una via coppa. Gliatevi in una via coppa. Ricordi una preghiera. A non metterla. Gli amma trovata la bolla. Facciamo a samba con la samba. E risolviamo i problemi. Gliatevi. Gliatevi. Gliatevi tutto quanto a papà. Paltù, ti parte per l'operazione disinascicamento. Ah! Che zitta! Non puoi far sentire un rumore? Gliatevi tre palli. Che stai a bomme maratuna. Ti è accaduto? No! Ma che è successo? Che è successo? Avete trovato la bomba, la bomba? Penso di sì. Che l'ero forno al microondi? Non siete buoni proprio? Mi ammuccio. Mi ammuccio. Dimmi non sbagliati. Mi scassate una cosa. Mi scassate niente più. Tu! Io non so che. Tanto quanto. Ma tu sei vivo? Què? La vedi benissimo. Vediamo. Stavo copiando. Noi stiamo tutta la casa. Zitta! Ma parla. Ho trovato il cocafone e da gente. E poi... Telefonino. No. C'è l'ultimo. Ah, la vedi benissimo. Tu non mi fai felice. Mi chiede le telefonino. Ti trovate? Stavo dopo forza mi ha avuto trovato. Ma è pure o meglio. È pure chi le rane nere. Veria. E perché uno faceva... Ticca. La bomba non so. Se me la trovi. Quattro telefonini. Che sta bomba non si trova. L'unica speranza è che ha chissero un'opera. Proprio che hanno vise. È fermato. È fermato. Voglio morire con tutta la famiglia. Ma non è tre minuti altristamente. Pregate. Pregate. E non potete parlare. Guardate se non mi pensi. Che è un seraglio. Amico. Vado a parte. Buonasera dal vostro scardimaio. Cammino di Dassaia. Ma si m'attorno. Buonasera. Sperando che ti ho divertito assai. Sperando che ti ho divertito assai.